Grazie mille. Allora, intanto è importante questa riunione, questa assemblea che ha voluto il nostro segretario Bononi. Evita i ringraziamenti, passa il dunque Bragantini. Velozissimamente. Allora, a questo punto di vista la Piera Pastore ha illustrato molto bene la mozione e volevo solo sottolineare un fatto da Veneto. Io ho voluto, insieme a tutti gli altri nazioni che erano presenti, abbiamo avuto questa intuizione di dire che tutti i popoli, se riusciamo a fare questo referendum in modo concomitante durante magari le elezioni europee, riusciamo a dare veramente quella forza ai nostri governatori, per così riusciamo veramente a unire la forza della base, la forza dei nostri amministratori, la piccola forza che riusciamo a portare avanti noi deputati giù a Roma, per forse riuscire a portare avanti e vincere la battaglia. Ricordarsi che se stiamo uniti siamo sempre più forti, se siamo uniti come popolo Veneto, col popolo Lombardo, col popolo Piemontese, gli altri popoli che sono presenti all'interno della Lega Nord, riusciremo a cambiare qualcosa. Se cominciamo a ragionare, come durante la discussione c'è stata, di dire ma questa tematica per il mio territorio non è così fondamentale e ci dividiamo, veramente non contiamo più niente. Dunque qua abbiamo messo degli strumenti, degli obiettivi fattibili, sia per quanto riguarda la legge vigente, sia per quanto riguarda anche altre proposte che ci sono già in Parlamento, per riuscire ad avere quello che abbiamo sempre chiesto. Da tanti tempi, tanto qua ci sono tantissimi vecchi militanti che come è sottoscritto, 18-19 anni stiamo portando avanti, essere padroni a casa nostra, dunque declinarlo con prima il Nord, prima lavorare sulla macro regione, o parlare di altre cose come abbiamo fatto nel passato, è sempre lo stesso obiettivo, solo che ogni tanto in momenti storici dobbiamo trovare la strada migliore per arrivare a quell'obiettivo. E in questo momento l'obiettivo è la strada, l'abbiamo già deciso più di un anno fa al congresso, è quello di partire dal territorio, dai nostri regioni, dai nostri comuni e insieme fare questa massa critica. Dunque mi raccomando, questa mozione sembra molto tecnica, ma ha gli strumenti molto importanti per portare avanti la nostra battaglia.